Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui per reagire a questo tizio che ha fatto il plan zoo battle pass Secondo me non ce n'è bisogno e secondo me non lo faranno Ma reagiamo a cosa penso questa persona che vi dico già il nome, si chiama President of Zoo Secondo me non lo faranno il battle pass ma vabbè, non è Fortnite questo gioco Non ho fatto ancora la reazione pass battaglia di Fortnite, la farò benissimo Va bene, ok adesso andiamo subito a vederlo Ovviamente vi dico come si chiama, ve l'ho già detto, the President of Zoo ha avuto 5000 views, quasi 6000 e adesso saremo la 6000 views Iniziamo subito, planet zoo, ovviamente non sentite l'audio ma lo tolgo, ok l'ho tolto Vediamo, ok, allora, secondo lui il primo, al piena fa il primo livello la volpe rossa Che ci starebbe perché sono animali abbastanza comuni qui in Italia E ci starebbe, ci starebbe mettere questi animali Anche questi golf, golf card ci starebbero Per me gli orsi ce ne sono già troppi Ci sta la skin, a livello 75 è un po' troppo Il leopardo ceza, anche se non è africano, il leopardo dell'Amur più o meno è sia Africa che Asia, non è solo Asia E cambia poco nel caso Poi c'è il Camaleon, che c'è? Ci sta, ci sta Ci sta anche questa scimmia, la scimmia ragno E sì, delle farfalle non farebbero male sicuramente allo zoo Delle costruzioni, ok? E nuove emote per gli animali, va bene Il cinghiale, ci sta? Manca? Ci sta? Il gecko, va bene, va bene Ci sta? Il Sifaka E' tipo una scimmietta, tipo E' bello Tipo una casa sull'albero E' il, come si chiama? Bra di poche, ma anche tra l'altro Grande mancanza Sì, io, va bene, ci sta Ci sta, ci sta Penso che non lo faranno mai, ma perché Effettivamente hanno sempre fatto DLC Che senso avrebbe adesso fare il Battle Pass Dopo tre anni dalla pubblicazione del videogioco Ma vabbè Nuovi DLC che vi ho già preparato Vi spoilerò In questo video che tanto non serve molto Vi spoilerò Chi sa, il DLC notturno Che hanno già fatto tutti gli youtuber Lo faccio anch'io, ok? Lo faccio anch'io E il DLC scava buche Degli animali che scava E' un po' stupido da fare Ma per mettere tanti altri animali Perché cosa vuoi fare? DLC paludi? L'hanno già fatto Bisogna avere un po' Di mettere insieme tutte le parti Un DLC che devo ancora fare Che non ho ancora fatto E' l'Amazonia Pack Che lo vorrei fare Appunto con il Bradipo anche Perché non l'ho messo negli altri DLC Va bene ragazzi Per questo video è tutto Lasciate like al video se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Ti mando una campanellina Per non perdere gli altri video Ciao